Questa è la scelta voce del Consiglio Comunale di seconda spogazione, perché la maggioranza del Consiglio Comunale è stata fatta in vita, in società il ragionamento del Consiglio Comunale rispetto al Consiglio Comunale che è arrivato qui nelle giornate stesse argomenti di subito questa mattina, alcuni dati dettagli della maggioranza si sottrò a dati che è proprio in attenzione del Consiglio Comunale, anche in rinunimento alla possibilità dell'igualità di approcundire queste numerose voce che stanno all'attestione del Consiglio Comunale. E con questa comunicazione che è arrivato al Consiglio Comunale, si è aggiornato il Consiglio Comunale e la maggioranza del Consiglio Comunale. Sarebbe opportuno un atteggiamento politico con l'attestione del Consiglio Comunale che un attenzione del Consiglio Comunale si adatte e chiedasse quali erano le difficoltà le difficoltà che sono importanti evidentemente e se tante difficoltà sono state superate e rispetto al Consiglio Comunale, diciamo, che ci sono i problemi. poi, insomma, abbiamo appreso da Giornale, da Ecotec, che ieri si è verificati su un evento che poi avrete un modo di approcundire rispetto alla valuta, insomma, psicologica che, naturalmente, ha, come dire, istituito dei presi del Consiglio Comunale il Consiglio Comunale, dal sistema di personalizzazione del Consiglio Comunale al primo di settembre e in Sinegatina, anche perché, insomma, il Comune di Casovia è il Comune di cui si parlano dei grandi spazi. fatto dal Consiglio Comunale che era arrivare alla Tasi, parlando della Tasi, e delle imposte, e, diciamo, l'amministrazione comunale, in questo caso, in un sistema completamente assente, sia per quanto riguarda l'accevolazione sia per quanto riguarda l'inizio. Quindi noi di questo torniamo in un sistema di interpretazione altissimo, anzi, in livelli delle imposte dell'italismo, in completa assente delle imposte del Consiglio Comunale e soprattutto in completa delle imposte della città. Su queste imposte, e, verificando, insomma, com'è quella difficoltà che attraversano gli italiani internazionali per il regolamento articolare, noi abbiamo proposto una modifica del regolamento da il quale, in un articolo particolare, in realtà la cosa che sono usati insieme è che abbiamo delle imposte che rispetto al quale il regolamento noi abbiamo proposto una serie di regolazioni attraverso la modifica del regolamento che sottoponiamo dell'attenzione di costanti negativi anche a spesa del regolamento che possiamo anche dare successivamente abbiamo proposto una serie di azioni che costano esigenze della città e compito dell'amministrazione il riferimento alle proposte che facciamo trovare le risorse dell'ambito degli evoluti di bilancio per condire questi costi che poi vanno nell'interesse dei cittadini e su questo noi siamo sempre caratterizzati perché rispetto a un modo di gestire l'amministrazione che ha messo in campo rispetto alle nostre proposte di un negozio attraverso l'apportamento di gestione l'eliminazione della struttura l'aprendimento degli carichi eh eh diciamo queste cose qua l'amministrazione nulla ha fatto come abbiamo anche nella seconda fase come gli avventi vedo da venire che sono sedentati ai quali di risancio che c'è parte da riportare il cittadino e noi su questo per quanto riguarda la data che se non ricordo bene è corretto dai cittadini per 19 milioni e 500 milioni di città questi sono i vostri societari che sono i cittadini e che vengono badati quanti cittadini è stato come e non lo ha detto il Partito Democratico ma lo ha detto che ci sono i cittadini 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 la riduzione del 30% del contigüente che è il titolare di pensione sociale minima che è il titolare di pensione minima sociale e ci sono i cittadini che ha una riduzione del pagamento della razza di una riduzione del 30% del contigüente un contigüente monorentino che ha più di 3 figlie a carico perché abbiamo insomma che è una famiglia per avere un figlio a carico comunque la presenza dei costi e dalle famiglie insomma che alle famiglie vanno le difficoltà così un è il contigüente monorentino che ha un figlio 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 come sale come sale e il comune attraverso un momento difficile e il compito del comune è un'amministrazione per la tutta che è difficile il comune che ha fatto e ci ha fatto un'attività che ha fatto una riduzione di riferimento alle famiglie ma non è che il viaggio non è che il pico ci quando è è la vita all'interno del fatto e sono un elemento del detenimento o se non è un elemento del detenimento e il detenimento è un tipo di scritto a fare un legato e a contenire un soggetto che si chiamo normali consigliamo un caldo e il minuto non a fare inmediatamente di voi però a voi a voi lo faccio con un elemento e io non so che che andava partito ma non ho capito che mi ha dato che la possibilità che non la faccio a due risultato a la versione di cominciare Noi abbiamo fatto una proposta che potrebbe essere la riduzione del 40% della testa, quindi per quanto riguarda gli esercizi commerciali, in un'inizio, per tutti gli esercizi commerciali, la nostra attività, negli attivi di, abbiamo avuto una riduzione del 40% della testa. Poi, in considerazione del fatto che, diciamo, soprattutto la zona del 100% è intervistata a causa di un regamento di manutenzione, abbiamo preso una riduzione del 40% degli esercizi commerciali che sono in tenenza a trattare in un senato, per un'attività, negli attività, negli attività, negli attività. Queste sono le accelerazioni che abbiamo fatto, se lo segnavano, se ne è che diventano una situazione, grazie, grazie al Signore del Palazzo.